Libri libera tutti. Lettura a domicilio per bambini curiosi. Buongiorno, sono Maria, la vostra lettrice a domicilio in tempi di coronavirus, la mesta del bibliocarrello in tempi normali, che presto torneranno. Non potevo lasciarvi questo mese senza una lettura. Questa è dedicata in modo particolare agli alunni della terza L dell'Istituto Perlasca, ai bambini di Piazza Sacco, per intenderci. A gennaio vi ho letto una favola di Esopo, uno scrittore greco, a febbraio una fiaba dei fratelli Grimm, ed oggi voglio leggervi una leggenda che mi è stata raccontata dalla mia maestra, quando, come voi, frequentavo la terza elementare. Spero che a voi piaccia come è piaciuta a me, e come è piaciuta ai tanti alunni a cui l'ho già raccontata. Per scrivere il testo che vi leggo mi sono fatta aiutare, oltre che dalla memoria, anche da due libri. Le più belle leggende di Roma, di Nadia Vittori, oppure da i bambini alla scoperta di Roma, di Roma antica, di Parisi e Punzi. Pronti per ascoltarmi? Dai, comincio. La leggenda della fondazione di Roma Enea era un abitante di Troia, nell'Asia minore, quella che oggi è la Turchia. Dopo la conquista della sua città da parte dei Greci, riuscì a stento a salvarsi, scappando dalla città in fiamme, insieme al vecchio padre Anchise e al figlioletto Ascanio. Iniziò un lungo viaggio, che lo portò verso la ricca e fertile costa della penisola italica. Dopo mille peripezie, giunse infine in una terra che noi chiamiamo Lazio, dove sposò Lavinia, la figlia del re, e dove fondò la città di Lavinium. Il figlio Ascanio, divenuto grande, invece, fondò Alba Longa. Molti anni dopo, divenne il re di Alba Longa, nomitore, un uomo buono e giusto, molto amato dai suoi sudditi. Suo fratello Amulio, invece, era ambizioso e in malvagio, e voleva prendersi il trono. Per raggiungere il suo scopo, eliminò i figli maschi del re suo fratello e costrinse la figlia femmina, la bella e dolce rea Silvia, a diventare sacerdotessa del tempio. Così la fanciulla non si sarebbe potuta sposare ed avere figli, e alla morte di un umitore, rimasto il trono senza eredi, Amulio sarebbe diventato il re di Alba Longa. Ma le cose andarono diversamente. Marte, dio della guerra, vide la meravigliosa fanciulla, se ne innamorò, si presentò a lei e le chiese di sposarlo. La giovane rispose, quasi piangendo, ti sposerei volentieri, ma non posso, sono una vestale. Se non rispettassi la legge degli dèi, verrei murata viva e non potrei più vedere la luce del sole. Marte, allora, la convinse che era una legge valida solo per gli uomini, non per gli dèi. Re Assiglia si fece convincere ed accettò di incontrarlo in segreto e di sposarlo. Dopo qualche tempo si accorse di aspettare un bambino. Nel frattempo, il potente dio Marte non si era più presentato agli appuntamenti segreti. Insomma, era scomparso. Quando zia Muglio seppe del matrimonio segreto di rea Silvia con il dio Marte e dell'arrivo di un nipote, quindi di un futuro erede al trono di Alba Longa, condannò la nipote ad essere murata viva dopo il parto. Dopo qualche mese nacquero due bellissimi gemelli e la povera madre fece appena in tempo a vederli che fu trascinata via e imprigionata in un sotterraneo buio e profondo. Amulio non volle più aspettare la morte di Minitore per regnare. Lo fece detronizzare con falsi accuse e preso il suo posto. Ordinò a due guardie di annegare i due gemelli nel Tevere. Due soldati, impietositi, sistemarono i neonati in una cesta e l'adagiarono sulle acque del fiume. La cesta galleggiò per un po' sull'acqua e poi, trascinata dalla corrente, scese a valle e si arenò in un'ansa del fiume sotto un vecchio albero di ficchi. Verso sera una lupa che aveva partorito da poco andò al fiume per bere e sentì il pianto dei bambini. Si avvicinò in curiosità e i neonati affamati si attaccarono alle sue mammelle. Ed anche nei giorni successivi al tramonto la lupa scese al fiume per allattarle. Così i piccoli crebbero forti e robusti. Qualche tempo dopo Faustolo mentre pascolava alle sue greggi scoprì i due gemelli. Raccolse la cesta e la portò a casa. La moglie H. Laurenzia che non aveva potuto avere figli fu felicissima di prenderli con sé e di crescerli. Romolo e Remo così li avevano chiamati divennero due ragazzi forti coraggiosi intelligenti. e l'euro a casa Grazie a tutti